Merry Christmas! Da parte di Mr. Jack davvero tantissimi auguri di buon Natale e felicissimo anno nuovo a tutti voi amici di Rock & Wow, sia lo staff che tutti voi che seguite questi straordinari ragazzi che davvero meritano il meglio un abbraccione enorme da Mr. Jack, buone vacanze, mi raccomando bevete responsabilmente e mangiate tanto panettone augurissimi, mega abbraccione, auguri 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 di tutto cuore Rock & Wow!